Nuova Mitsubishi Cold, tua da 149 euro al mese, con 5 anni di garanzia e 3 anni di assicurazione furto e incendio. Vieni a provarla nelle concessionarie Mitsubishi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Sempre la sanità in prima pagina sui quotidiani regionali. Partiamo da Gazzetta del Sud, oltre che come sempre dopo Gazzetta del Sud andremo anche al quotidiano del Sud e poi come sempre daremo uno sguardo nel nostro appuntamento alla prima di Calabria.live, poi qualche notizia da lamettino.it e poi andremo come sempre a dare uno sguardo anche ai titoli principali delle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola, per concludere come sempre con lo sport. Dicevamo, partiamo da Gazzetta del Sud per iniziare il nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv. Sanità, ma anche la visita del ministro Valditara che c'è stato appunto in Calabria su Gazzetta del Sud. Sanità, snodo per gli affari dei clan, titola la prima di Gazzetta del Sud. A Catanzaro è stata desecretata l'audizione dell'ex commissaria dell'ASP davanti alla commissione parlamentare antimafia. La Tella appunto che era commissaria dell'ASP di Catanzaro ha appunto parlato sui ritardi nei pagamenti, gestione raffazzonata per favorire qualcuno. Poi dicevamo del ministro Valditara in visita in Calabria, ministro dell'istruzione, più lezioni di italiano e matematica, regione e ministero in campo per colmare i deficit formativi. C'è la notizia che il presidente della Repubblica Mattarella sarà in Calabria il 30 aprile, visiterà due aziende nel Cosentino. Poi in alto prove di dialogo tra Fiorita e Donato, la strada è in salita, parliamo di Catanzaro, Nicola Fiorita, sindaco e Valerio Donato, leader dell'opposizione. Ancora sanità, la mezza terme, previsti investimenti per 50 milioni di euro all'ospedale di la mezza. Poi Cutro, l'inchiesta Borderland, la condanne da rideterminare necessario un terzo processo d'appello per il boss trapasso di San Leonardo di Cutro. A centropagina poi le altre notizie di respiro nazionale e internazionale, le paure di Kiev, la mossa della Nato, Zelischi, la Russia sta per mobilitare altri 300 mila soldati, rischiamo il tracollo. Poi di spalla la maggioranza si compatta per blindare Salvini e Sant'Ache, a proposito delle emozioni di sfiducia sui due ministri. Confindustria, Garrone si ritira per il bene dell'associazione, poi c'è stato un sisma 7.4, devasta Taiwan, morti, feriti e decine di dispersi. Un boato e il terrore sulla costa orientale. Scorriamo le pagine sempre di Gazzetta del Sud, come sempre prendiamo in considerazione l'edizione Catanzaro, Crotone, la mezza Terme Vibo, Mattarella, torna in Calabria, sarà nel Cosentino il 30 aprile, sfiducia, il centro destro Salva Salvini, e poi PIL, deficit e debito, i tre pilastri del DEF, gli scienziati destinare più soldi alla sanità pubblica. Kiev ha paura, il fronte rischia di crollare, scossa di magnitudo 7.4, leggevamo, devasta Taiwan. Andiamo alle notizie della Calabria, le pagine calabresi, su Gazzetta del Sud. Questa è appunto la notizia, la prima pagina dell'edizione Calabria, che riguarda la visita del ministro Valditara in Calabria, più ore di italiano e matematica a scuola, la scommessa per colmare i cap formativi, il progetto RecapCal presentato ufficialmente nella sede della regione. Ponte sullo stretto, cantieri e discariche, gli espropri fino al Vibonese. Poi il bilancio e le nuove sfide di Santo Biondo, segretario della GUIL Calabria. Andiamo a Catanzaro, dialogo fiorita donato, la strada è stretta, prima riunione con parte della maggioranza, come i clan lucrano sulla sanità calabrese, e l'audizione della ex commissaria straordinaria dell'ASP di Catanzaro, il prefetto Maria Luisa Latella. Gli studenti spronati dal ministro Valditara, credete in voi stessi e nella scuola, visita di Valditara al Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro, quindi oltre che alla regione ha visitato anche alcune scuole il ministro. Liceo Classico, le barricate dei ragazzi, quindi Soverato, gli studenti scendono in piazza per invocare il salvataggio dell'indirizzo dell'Istituto Salesiano, l'unico a Soverato. Andiamo ancora a scorrere le pagine, una notizia che leggiamo da Davoli, presunti illeciti, caso archiviato e l'aggiunta querela il denunciante. Poi alla Mezzia, dicevamo, ospedale di la Mezzia, investimenti per 50 milioni di euro, di spalla fibrosicistica, il centro rimanga sotto la pediatria, e poi la Mezzia e la Metino, altra pagina di Gazzetta, la Statale 18, Tranocere e Gizzeria, ostaggio di due sensi unici alternati, sequestro di droghe e armi nell'area del Reventino, la Mezzia, raccolta firme per pace, terra e dignità, la lista che ha intenzione di presentarsi alle elezioni europee, Iacurso, scintille tra sindaco e opposizione, il primo cittadino di Iacurso, serratore, replica sulla carenza idrica e la potatura degli alberi. A Crotone, altra pagina, numeri in crescita per i musei, weekend di Pasqua col botto, poi terzo processo d'appello per il bosco di Leonardo, la Cassazione chiede di rideterminare le pene, San Leonardo di Cutro, andiamo a Vibbo, Consoli si smarca dal centro, traballa il patto per la città, sempre Vibbo, spiagge, verde pubblica e servizio, la sfida è arrivare pronti all'estate. Questo era sempre sulle pagine di Gazzetta del Sud, con cui abbiamo iniziato il nostro nuovo appuntamento con i giornali TV. Andiamo alle edizioni Calabria del quotidiano, i carichi di droga gestiti al telefono dal carcere, titolo è quotidiano del Sud, i narcos importavano cocaina da Sud America, numerosi calabresi tra i 15 arrestati, un detenuto al Marassi di Genova usava sei cellulari per muovere e finanziare tutto. Poi la carenza idrica uccide i finocchi, la protesta degli agricoltori, il gesto simbolito, consegnate le partite IVA al sindaco di Isola Capo Rizzuto. E poi la rete ospedaliera, le promesse sulla Mezzia e i timori sulla chiusura di Polistena, battaglia anche sul punto nascita. Poi la storia da San Sosti al British Museum, il giallo della scura eletterata che ha girato tutta l'Europa. Catanzaro, maggioranza, azione tiene chiusa la strada al campo largo, Reggio Calabria, una folla commossa per l'ultimo saluto a Rosetta Neto, comunale di Vibbo, umanesimo sociale, interrompe il dialogo con il centro, Crotone, servizio per le dipendenze dell'ASPE, emergenza, gioco ad azzardo, ambiente, ecco i nuovi mezzi antincendio della Prociv, infrastrutture, espropri, si organizza la rete NoPonte. Il presidente Mattarella sarà in Calabria il 30 aprile, in Calabria c'è stato il ministro Valditara che punta a potenziare le prove invalsi. Sgominato il narcotraffico all'interno delle pagine del quotidiano, dunque lungo l'asse Calabria-Liguria, quindi un colpo a un gruppo vicino al clan Bellocco di Rosarno, droga destinata al porto di Genova. Sei furono coinvolti nel blitz del 2015, l'espedizione di droga dalla Locride, il ruolo dei fratelli Giampaolo di San Luca, disponibili anche armi da guerra, immettevano stupefacenti nel fiorente mercato della città della Lanterna, questo è un altro spaccato di questa inchiesta, e ancora affari diretti dal carcere con i criptofonini, dispositivi introdotti illecitamente nel penitenziario di Marassi, nonostante la detenzione, il capo dava disposizioni via SMS e con Pizzini. Maxi indagine salva, grazie alla Cassazione, migliaia di chat decrepitate sono utilizzabili. Alla Mezzia non toglieremo nulla, dice il commissario dell'ASP, il generale Battistini, che si è incontrato con cittadini, insomma c'è stata un'assemblea pubblica nella sala ferrante dell'ospedale di La Mesa Terme. 5 milioni e mezzo di euro sono già stati spesi, il centro di fibrosicistica sarà potenziato, quindi questo emerge dall'incontro tra il commissario Battistini, appunto un'assemblea pubblica con cittadini, organizzata, promossa dal comitato civico La Sanità che vogliamo, fondato dalla consigliera regionale Amalia Bruni. Sempre Sanità, la protesta a Cosenza chiude il punto nascita, è una scelta puramente politica, poi a Polistena monta la rabbia sull'ospedale a rischio chiusura, e poi Valditaria, la Calabria cerca riscatto, dice il Ministro, Poi ecco i nuovi pick-up antincendio, 18 mezzi per potenziare la strategia della regione, tolleranza zero, il Presidente Occhiuto anticipa investiremo nel rilancio della forestazione. Poi si organizza la rete No Ponte, gli espropi di colonialismo, e poi a Isola Caponizzuto la consegna delle partite IVE, una protesta simbolica degli agricoltori per la carenza idrica. In Calabria sono state sciolte oltre mille cooperative, titola il quotidiano del Sud, primo provvedimento massivo del Ministero delle Imprese e Made in Italy. Nola dice, questa chiusura di oltre mille cooperative in Calabria rappresenta un passaggio cruciale nel contrasto alla falsa cooperazione. Catanzaro, politica, azione, chiude il campo largo, il Sindaco punta ad allargare i numeri, ma il gruppo Tallerico non lo lascia, e ancora anche qui ha soverato giù le mani dall'Istituto Salesiano. Andiamo alla Mezzia sul quotidiano, rassicurazione su fibrosi cistica, Tallerico sarà mantenuta alla direzione di gestione in capo alla pediatria, il consigliere regionale Tallerico ha incontrato il commissario straordinario dell'Asp. Poi comune, Sindaco in un vicolo cieco, il Sindaco Mascario in un vicolo cieco, da tre mesi giunta senza due assessori, manovre sotto traccia ai consiglieri a mani vuote, il Sindaco dovrà chiedere il voto sul bilancio. Processo Crisalide Paladino condannato al processo d'appello bis, quattro anni e sette mesi all'ex politico, ex vicepresidente del Consiglio Comunale della Mezzia Terme accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Processo alibante Gallo lascia il carcere dopo tre anni, il processo alibante ritenuto vicino alla Cosca Bagalà, quindi Mario Gallo per Mario Gallo il Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari, quindi ha sostituito la misura in carcere con gli arresti domiciliari. A San Pietro Apostolo accolti in dieci anni cinquecento minori, il centro Miriam è diventato un modello di integrazione a San Pietro Apostolo tante storie di bambini e adolescenti giunti in Italia da soli dopo viaggi lunghi e pericolosi. Scuola, cultura della legalità tra i giovani, incontro tra la polizia e gli alunni, saluto al commissario capo Ventriglia in quescenza, a Soveria Mannelli, controlli dei carabinieri, denunce e sequestri, droga fra i giovani ma anche armi bianche. A Falerna, strada comunale in sicurezza, c'è un progetto esecutivo e chiesto un finanziamento per una strada comunale a Falerna. Crotone, cambiamo territorio, gioco ad azzardo, emergenza, dice il responsabile del servizio per le dipendenze dell'Asp, poi l'ultimo saluto a Reggio Calabria, Rosetta Neto, è la mamma del sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà. E andiamo a Gioia Tauro, sono stati sequestrati due autolavaggi. In una di queste attività il contatore era fermo e non funzionava dal 2021. Vibbo Valencia, interrotto il dialogo col centro, decisione clamorosa di umanesimo sociale confermata da consoli non accolti dagli alleati alcuni punti del patto per la città, cosa farà ora lo bianco? Botte risposta social tra Romeo, candidato sindaco del centro-sinistra e Limardo, attuale sindaco di Vibbo. Aggressioni al pronto soccorso, finora solo parole, dice il consigliere regionale, mammoliti, critiche ai vertici Asp, a oggi nessun provvedimento concreto, l'ultimo episodio appena qualche giorno fa il consigliere regionale mammoliti del PD scrive al ministro della salute Schillaci Comito di Forza Italia avanza alcune proposte a proposito delle aggressioni ai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Vibbo quindi sono state avanzate alcune proposte concrete per riorganizzare il comparto scrive il quotidiano. Mostra fotografica a Vibbo sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio poi numerosi orti botanici didattici nelle scuole di capoluogo e frazioni di Vibbo i tifosi della Vibonese dai bimbi della pediatria nasce a Vibbo una sezione Agimus organizzerà concerti e concorsi nazionali e internazionali a Tropea sono state consegnate alle Benemerenze 2024 un riconoscimento a chi nel proprio settore professionale ha dato lustro alla città ai cittadini che per motivi differenti meritano di essere indicati alla pubblica estimazione andiamo a Pizzo ufficio ticket la battaglia continua ancora disagi per ammalati e anziani della cittadina di Pizzo poi sul quotidiano ancora da San Sosti al British Museum il giallo della scure letterata trovata nel 1846 sulla serra le sale a VI secolo gli incredibili giri per l'Europa di bronzo dorato reca un epigrafe di grande interesse scrive il quotidiano del sud sulle pagine di società e cultura Calabria Movie Festival ritorno in grande stile la quinta edizione della rassegna a Crotone ad agosto Davide di Tonadello in nomination il nostro Bruno Rissas poi cultura premio la cava rivelata la terzina dei libri finalisti scrive il quotidiano del sud quindi dopo Gazzetta del sud abbiamo anche dato uno sguardo al quotidiano del sud come sempre torneremo sia sul quotidiano del sud che su Gazzetta del sud quando ci avvieremo alla conclusione del nostro nuovo appuntamento con i giornali tv con lo sport ora andiamo a dare anche uno sguardo alla tanto tra poco anche sul sito lamettino.it ma anche alla prima pagina anche alla prima pagina del quotidiano online calabria punto live come sempre anche quest'oggi dunque la grande cosenza titola calabria punto live un'occasione di positiva integrazione socio sanitaria scrive la prima pagina di calabria punto live la presidente regionale della filiera salute di confapi analizza i benefici che comporterebbe la fusione la città dei bruzi appunto cosenza rende castro libera appartengono a distretti diversi il che comporta disagi e non poche difficoltà la loro unione invece permetterebbe di superare la frammentazione dei servizi questo secondo quanto scrive oggi appunto il quotidiano digitale online calabria punto live bene ora prima di passare ai principali titoli dei quotidiani nazionali oggi ne dico poi ovviamente a conclusione concluderemo con lo sport vediamo rapidamente anche qualche titolo del sito il lametino punto it ecco qui dunque sul lametino punto it la mezza l'assemblea in ospedale con Battistini il commissario dell'asp lavoriamo per migliorare in ballo investimenti per 50 milioni di euro poi la mezza processo crisalide condannato in appello l'ex vice presidente del consiglio comunale giuseppe paladino poi valditare in calabria presenta il progetto recupero competenze in italiana e matematica più opportunità agli studenti della regione calabria il presidente della repubblica mattarella sarà in calabria il 30 aprile piano regionale contro gli incendi operativi 18 nuovi mezzi tolleranza zero contro i piromani dice il presidente della regione calabria occhiuto che appunto è stato alla consegna di questi 18 nuovi mezzi della protezione civile regionale mezzi antincendio andiamo alle prime page dei quotidi nazionali Corriere della Sera Salvini respinta la fiducia e poi sanità a rischio crack l'appello appunto sulla sanità soprattutto nel caso in cui dovesse essere approvata l'autonomia differenziata la stampa allarme di Nobel e scienziati il governo uccide la sanità quindi il stesso titolo di Repubblica il stesso argomento comunque sul libero io con l'Ucraina per guidare l'Unione Europea la Lega c'è intervista al libero di Matteo a Matteo Salvini il giornale il Parlamento assolve Salvini sul caso Putin il fatto quotidiano Kiev collassa ma la Nato batte cassa soldi e armi per 5 anni la verità i generali ucraini ammettono non possiamo fermare i russi poi il tempo chi salis chi scende e poi salis riferita alla ragazza ungherese in carcere in Ungheria che si è ripotizzata una sua candidatura col PD e le europee il messaggero giustizia piano svuota carceri poi domani le bugie della destra sul premierato Meloni e Mattarella ai ferri corti il sole 24 ore eurozona inflazione infrenate riformiste intercettazione un altro blef il manifesto nuoce gravemente con la foto appunto del momento in cui si sta votando la sfiducia a Salvini e Santacchè par condicio no super partes titola l'identità sull'unità io mi rifiuto di uccidere per vendetta la rivolta del soldato israeliano il gazzettino giustizia c'è il piano svuota carceri il mattino migranti anche qui piano svuota carceri avvenire più Europa meno armi il dubbio bombe censure così Netanyahu uccide la nostra democrazia il secolo XIX sanità pubblica a rischio anche qui sul leggo la violenza negli occhi dei bimbi rapporto Save the Children e polizia sulle vittime collaterali minata la crescita il resto del carlino in arrivo i nuovi incentivi per le auto la notizia è tornata alla banda del buco dopo appena un anno e mezzo il governo è già sotto processo per eccesso di debito poi sul secolo d'Italia ma è il PD o l'isola dei famosi poi sul quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia leggiamo i super bonus degli altri senza crescita poi la discussione Nato fondo di 100 miliardi per Kiev Mosca la ruola 300 mila soldati per concludere come detto andiamo alle pagine dello sport partiamo con i quotidiani sportivi nazionali la gazzetta dello sport Zirk Zessi al Milan l'attaccante del Bologna poi in basso più Juve con Diusan Vlaovic carica fiorentina battuta l'Atalanta 1 a 0 nella gara d'andata della semifinale di Coppa Italia anche sul core dello sport la mandragata riferita a Mandragora che ha fatto un gran golo con cui appunto la fiorentina ha battuto l'Atalanta 1 a 0 nella semifinale di andata di Coppa Italia la Champions la Champions della Juve passa dai gol di Vlaovic mai più senza e il Boster di Allegri raddoppia punti e medie poi su tutto sport Vlaovic io c'è questa metafora trascina la Juve aiuta i compagni segna ecco come Diusan è diventato decisivo poi sul quotidiano sportivo QS Napoli con la foto del presidente Laurentiis un anno da dimenticare ricordiamo che Napoli è il campione italiano in carica però insomma protagonista di un campionato veramente molto al di sotto non solo delle delle proprie impossibilità ma soprattutto delle aspettative Napoli che rischia tra l'altro di non qualificarsi per nessuna competizione europea per il prossimo anno dicevamo dunque concludiamo il nostro appuntamento con lo sport dalle pagine dei quotidiani regionali quindi partiamo torniamo su Gazzetta del Sud e poi andremo a concludere con lo sport del quotidiano del Sud la prima pagina dello sport oggi Chiesa è tornato protagonista la Juve Spalletti Gongolano Serie B Catanzaro ormai a livello delle più forti poi l'Italia all'assalto dei Paesi Bassi con la spinta dello Stadio Marulla di Cosenza Cosenza a proposito il cammino in trasferta da fiducia poi praticò da luglio saremo regina questo è il percorso più naturale Vibonese da spettatrice preparando la volata per i playoff poi Ferrari il piano per Suzuka ora pressiamo la Red Bull scrive Gazzetta del Sud sul quotidiano del Sud andiamo a leggere calcio femminile qualificazione europea Bergamaschi azzurra di fuoco Italia Paesi Bassi che si gioca al Marulla di Cosenza per il calcio femminile qualificazione europea il nostro calcio dice Bergamaschi passione e sudore proprio come i maschi vogliamo conquistare più tifosi un solo obiettivo vincere sempre rimanendo umili Serie B Catanzaro solo segnali positivi da Parma la conferma di una squadra in salute adesso un altro big match sabato al Ceravolo sfida contro il Como per alimentare il sogno panchine bollenti in Serie B Palermo via Corini ora tocca a Mignani Formula 1 la Ferrari a caccia del Bis pallavolo Serie B Tonno Callipo verso lo sprint conclusivo per la salvezza sempre Serie B calcio Cosenza il clima è più sereno confronti e chiaramente già avvenuti ora è il momento di salvare la categoria arrivano segnali positivi dallo spogliatoio ma a Piacenza si deve vincere ciclismo i successi dello sceriffo Moser questo sport ormai è cambiato Serie C per concludere Crotone assenze e dubbi ma un solo obiettivo c'è un posto playoff da blindare per il rosso blu Gigliotti va verso il recupero questo era per quanto riguarda il Crotone Serie C poi per quanto riguarda i riconoscimenti a piloti che hanno vinto titoli in Calabria è stato consegnato un diploma al merito sportivo al pilota Lametino Claudio Gullo il pilota Lametino tra i premiati vincitori di titoli di AC Sport Calabria con lo sport come sempre abbiamo concluso anche per quest'oggi è tutto da Pasquale Oretura grazie per l'ascolto e l'attenzione grazie per averci seguito fin qui naturalmente con i giornali in tv vi diamo appuntamento alla prossima edizione lascia il tuo segno fuggi lontano da ogni schema guarda più avanti degli altri nuova EQA 100% elettrica scelta distintiva grazie per la visione